prove tecniche di trasmissione per stasera prove tecniche ragazzi prove tecniche stasera siamo in diretta ore 22 30 facciamo una bella direttina ammazza quanti siete già calma è tempo sto facendo delle prove stasera ore 22 30 siamo in diretta per chi avrà piacere di stare con me ben volentieri sto facendo una ripresa volante dalla macchina per vedere ho sistemato un paio di cose per cui ciao a tutti va va benissimo mi raccomando ragazzi stasera adesso parliamo della nazionale parliamo di tutto ciò che volete ragazzi di tutto quello che vi pare non c'è problema adesso sto verificando la chat che sta facendo passare i messaggi più lentamente quindi sì ecco bravo bravo luigi prendi la birra sarà importante perché stasera ci sarà da divertirsi stasera ragazzi sono massolate per tutti non ci sono ragioni né niente dopo lo schifo e il vomito che ho visto ieri sera ieri sera poi sono stato buono perché potrei fare anche di peggio o l'importante che la birra ce l'avete buona io ce l'ho buona la birra a io ragazze me mi hanno regalato una birra che è fantastica poi dopo stasera vi dico anche come si chiama c'è un nome strano io non sono un intenditore di birra però mi piace la birra buona è questa che viviamo stasera è buona magari due noccioline due lupini qualcosa eh così ne approfittiamo che parliamo comunque anche del campionato che poi la prossima volta riparte perché ragazzi ci sono stati degli infortuni avete sentito avete letto infortuni del tipo si è infortunato manzukic barzagli un piccolo risentimento speriamo che non ci siano non ci siano buonasera a tutti ragazzi e speriamo che non ci siano grandi problemi perché perché adesso parliamo di nazionale ma francamente per quanto mi riguarda per me la juventus in questo momento mi prende di più della nazionale sono veramente molto deluso da questa nazionale per cui stasera ce ne sarà per tutti mi raccomando ragazzi una bella serattina belli polemici perché ho voglia di divertirmi stasera con voi senza fare considerazioni sui giocatori chi era più forte chi era meno forte parliamo esclusivamente di nazionale di juventus cerchiamo di essere più polemici possibili ok mi raccomando ci vogliamo divertire facciamo conto di essere davvero in un bar ok quattro amici due belle chiacchiere dove non ci sono televisioni che ci riprendono come mi piace a me terra a terra con degli amici e basta nulla di più quali siamo tutti noi una cosa ragazzi importante stasera vorrò chiarire anche con voi un aspetto per quello che riguarda la partita di ieri sera sul fatto della scarsità dei nostri giocatori come io ieri sera ho accennato ok allora quando io parlo di scarsità non parlo proprio del giocatore in sé perché come dico tante volte ci sono dei giocatori che non sono eccezionali però messi in certi contesti riescono a rendere più di quello che loro hanno nelle possibilità ok quindi questa è una cosa fondamentale per poter parlare anche di calcio d'accordo quindi stasera parleremo di tutto un po parleremo di nazionale parleremo di juventus con tutto quello che ne conseguirà io me ne assumo completamente la responsabilità di ciò che dico ragazzi adesso non leggo la chat perché questo è soltanto un video brevissimo per farvi sapere che stasera alle 22 30 22 45 al massimo facciamo la diretta ok serviva solo per quello poi io comunque mi collego passate parola io innanzitutto devo continuare a ringraziare coloro che si iscrivono ieri eravate 1230 adesso siamo già quasi a 1270 quindi questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere sto cercando di capire come funziona youtube quindi è chiaro che ancora non sono certamente un chi che sia e so benissimo che avere 1200 rotti iscritti ancora un numero irrisorio rispetto a certi bravi youtuber mi con io li considero tutti bravi perché youtuber che hanno 15 20 30 mila iscritti secondo me vuol dire che sono bravi cercherò di fare qualcosa anch'io per aumentare gli iscritti la rubrica dei calciatori è una rubrica fatta esclusivamente per i tifosi della juventus i tifosi doc come l'ho voluta intitolare ma parleremo anche di altri giocatori quindi andremo anche a toccare giocatori che non hanno fatto parte della juventus ma che comunque sono stati dei grandi campioni e parleremo anche di qualche flop inaspettato flop inaspettato parleremo anche di quello ragazzi per il momento io vi saluto perché alle 19 ho un appuntamento di lavoro ci sentiamo stasera ore 22 45 in diretta al bar di demon ci vediamo dopo ciao